che non è più un miraggio, soprattutto dopo i risultati ottenuti al recente vertice europeo con lo stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per l'Italia che potrà utilizzare nel 2014 e nel 2015 e che diventerà più credibile se noi sapremo utilizzare e ampliare questo fondo sociale europeo e migliorare i criteri di assegnazione. Non solo è necessario, ed è questa la domanda che noi le rivolgiamo, che il Governo realizzi un piano straordinario di politiche attive per il lavoro per favorire l'assunzione di giovani e che contempli non solo incentivi e sgavi fiscali ma che contempli anche un incentivo alla domanda di lavoro nei settori più ricettivi. E' questo che noi le chiediamo di illustrarci le iniziative che il Governo vorrà fare per uscire dalla crisi in questo momento. Grazie Presidente. Prego Presidente del Consiglio, prego. Al collega Martelle, al collega Speranza, voglio rispondere che, come hanno detto, il lavoro e in particolare il lavoro per i giovani è stato fin dall'inizio al centro dell'attenzione di questo Governo. Nei primi 70 giorni di vita del Governo abbiamo approvato un piano nazionale straordinario per l'occupazione giovanile, mettendo in campo la decontribuzione totale per le nuove assunzioni di giovani. Abbiamo messo lì un intervento, il primo, dopo molto tempo, contro la povertà estrema nel nostro Paese, un intervento specifico con un emendamento apposito sul tema dell'aiuto ai lavoratori disabili, il tema del rapporto con la formazione, le borse di mobilità e altri interventi che la collega Carrozza ha proposto nel piano nazionale. Contemporaneamente l'Italia ha partecipato alla stesura del piano europeo che il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno ha approvato, un piano europeo fondamentale che adesso dobbiamo applicare in Italia. In autunno comincerà questa seconda fase di interventi. Si tratta ovviamente di applicare bene le misure che sono a disposizione, ma adesso, previo un grande accordo, una grande discussione con le parti sociali, dovremo mettere in campo un piano d'attacco più complessivo che riguarderà i giovani e non soltanto i giovani, perché non dobbiamo dimenticarci che la disoccupazione nel nostro Paese tocca purtroppo tutte le fasce di età. Il che vorrà dire un piano sull'applicazione della cosiddetta garanzia per i giovani, in Italia fondamentale perché quando si esce da scuola o dall'università il momento di avvicinamento al lavoro è sempre più lontano. Avvicinarlo è fondamentale. L'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020, spostandoli il più possibile verso il Fondo Sociale europeo e verso l'occupazione. Il tentativo di interventi generalizzati per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, che rimane per noi il faro degli interventi per dare più lavoro e per battere la disoccupazione. Infine, il tema del riequilibrio rispetto alle disuguaglianze crescenti nel nostro Paese. Negli ultimi anni le disuguaglianze sono cresciute. Le disuguaglianze hanno voluto dire allontanamento dalle opportunità. Noi dobbiamo favorire quindi una crescita di livelli di istruzione e di recuperi di relazioni territoriali diverse che rendano possibile quello che in Italia purtroppo oggi non è possibile, che chi viene da una famiglia sfortunata dal punto di vista delle occasioni possa maturare fino in fondo l'applicazione del principio costituzionale per cui può farcelo anche lui. Questo è uno degli impegni principali che mi prendo qui e uno degli impegni principali per i quali il nostro Governo vive e lavora. Grazie. La facoltà di replicare è il deputato Roberto Speranza. Prego. Sì, grazie. Grazie, Presidente. Le sue parole ci convincono e mi pare che aprino una fase nuova ed importante per il nostro Paese. Io voglio dirlo con forza. Per la prima volta dopo molti anni si torna a mettere al centro la questione del lavoro. Si torna a farlo in Italia e si torna a farlo per merito dell'Italia in Europa. E io penso che questo è un risultato che dobbiamo saper rivendicare tutti con assoluto coraggio. Voglio dirlo perché ne abbiamo già discusso in quest'Aula, quando i nostri deputati under 35, in maniera trasversale, con tutti i gruppi parlamentari impegnati, ci hanno chiesto di mettere al centro la questione di una generazione che rischia di non farcela più, che non vede più un'opportunità per il proprio futuro.